verso una nuova avventura in un punto definito dei corridoi infiniti del tempo. Dove siamo finiti? Non so che dirti. È il sole ora il nostro nemico. Dobbiamo trovare un riparo. Andiamo dietro quelle rocce. Lì dentro è come essere in un forno. Possiamo arrivare alle montagne? Con questo caldo non ce la faremo. Doug, se restiamo qui, arrostiremo. Forza Tony, aiutami. Cosa fai? Pochi centimetri sottoterra, la temperatura è minore. Scaviamo due buche e mettiamoci dentro fino al tramonto. Spero di non farmi la tumba da solo.